Allora in questo video faremo un mini chest opening sull'account dei Gioane3CT e di Raph aprendo la megacass del Gioane3CT. Iniziamo con l'account di Gioane3CT. Ricordo di iscrivervi al canale, se vi interessa fortnet passatevi al mio canale la prima cassa infatti oddio questo è caricato vabbè vabbè apro questa piccolina, voi togli tu la cassa di nuovo. Anche l'apri l'apri l'uffa. Vabbè vedete l'uffa, vabbè l'apri l'uffa. Qua c'è l'uffa, forse lo provi? No si. Brava tu altro. Ah troppo troppo da l'uffa. Non me la vedo tutto il giusto che adesso sembra il vuoto. Facciamo così, apriamo tre cassa, visto che sono tre cassa piccoli, abbiamo una nascuna e la grande l'apro io, vabbè? E' il primo. E' il primo. E' il primo. Prima. E' il primo, la prima cassa. E' perchè l'altro non l'abbiamo trovato. Ho paura come l'ha dovuto tirare. Come l'ha dovuto, si si. Un po' ci sta. E' il mio accanto principale. Vabbè apri la cassa e la fai vedere il cam. Vabbè niente. Allora, prima di iniziare, prima di aprire la cassa faremo una partita di sopravvivenza. Ma prima? Prima vogliamo salutare, cioè vogliamo ringraziare tutti quelli che sono i gradi del nostro clan, che sono Nick23, Betty Shadow Dark, No Legend, Andrei48, Black Blast, CR7, Richard05, CR9, Il Dio, Il Dio, Gix Master, Gix Faberino 8, Jenny, poi basta. Gli altri sono tutti i nostri amici. Ci sono problemi tecnici. Ok. Giusto qui sotto. Ah, eccolo qua. Quindi ragazzi, prima di aprire questa cassa, ci sono arrivato ieri a 9000 coppe. Facciamo una prova di pensare. Mi metto a 9000 coppe, poi vado a 2.1. Mi metto a Piper. Vai random. Vai per Ray, il bro è il più vicino alle 500 coppe, perché... Però guarda, tu stai a credere, è grad 12. Credo ce l'hai. 14. E vabbè, guarda. Oh no. Porr... Facciamo altre partite. Ragazzi, ho tagliato questa parte perché abbiamo fatto una partita proprio bellissima. Quindi... Troppo bella per essere messa nel video. È troppo bella per essere messa nel video, quindi facciamo un'altra. Panno, 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 panno. Vado. Va bene. Eh, non è mio, sono andato troppo sotto. C'è qualcosa sopra? Così è una cassa? Oddi. Sì. Gigi. Vei una mic. No, è vero, è sponata. Oddi. Ho scrivato di colpa all'interno. Ho scrivato di colpa all'interno. Oh! Naccia bo... No, la stiamo su YouTube. Oddi, vai. Ok, è ammazzato. Ti ho colto di sorpresa. È ammazzato? Eh, però c'è troppa gente. Oddi. Oddio, oddio. Oh, però... Cioè, ho colpito un sacco di volta con lo stecco. No, stecchino. No, cosa da vuoi? Ma c'è una cosa si è chiamata vuolta. A vero, ragazzi, non fa niente. Lasciamo stare. Terza posizione, va. Siamo dopo l'altra partita, va. Vai, ora ci apriamo la cassa. Ti sto aspettando. Però io ho trovato la settimana... No, c'è domenica. Domenica. Quindi è difficile trovare... Spero di trovarmelo molto. Però se escono sei schifo. Io non c'ho nessun brollo all'arriverno nuovo. Quindi non mi posso scendere. Spero di trovare molto. Spero di trovare molto. O sei? 5. Tu non hai scritto ciascuno. Però almeno voglio trovare i punti di energia di Leon. Non c'è prima schifo. 12 tene Mike. Venti cara. 21 genio. Fatti due. Eh? La persona? La fermata. 5 tenbo? Leon. Nacci. Denberry. A meno. Leggerne. Viglio. No il biet che cosi? A meno il progetto. Ah, c'abbiamo anche 50 monete, per eh. Sì Beh ragazzi Speriamo che questo video vi sia piaciuto Speriamo che questo video vi sia piaciuto Speriamo che questo video vi sia piaciuto Mettete like Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto E noi ci vediamo Seguiteci su Instagram E noi ci vediamo in un prossimo video Grazie